Promuovere il patrimonio artistico e culturale del territorio in una prospettiva cristiana è l'intento del progetto OPERO, Opera Pellegrinaggi della Romagna. La Ravenna Cristiana, il Cammino di San Vicinio, la Romagna di Francesco, le pievi della Val Marecchia, una serie di proposte per conoscere i segni e le testimonianze della spiritualità. Non un'agenzia di viaggi, ma uno strumento di evangelizzazione attraverso il viaggio e il turismo. OPERO prima di tutto non è un'agenzia di viaggio, ma è semplicemente un organismo pastorale che è nato dalle sette diocesi della Romagna per promuovere e coordinare i pellegrinaggi, ma soprattutto valorizzare il nostro territorio in chiave turistico-religiosa, formare guide competenti e creare nuove opportunità di evangelizzazione pensando ad esempio alla catechesia attraverso l'arte. L'intento è anche quello di essere porta aperta verso le altre comunità cristiane con pellegrinaggi in terra santa a novembre a Londra per l'unità dei cristiani a gennaio o in Francia in primavera. Importante l'apporto della diocesi riminese attraverso il biennio di specializzazione di arte sacra e turismo religioso dell'Istituto di Scienze Religiose Marbelli e dell'agenzia Riminum. Io sono contento che Riminum sia stato un po' il motore che ha avviato la cosa, diciamo dobbiamo dare riconoscimento alla nostra agenzia a Riminum, noi stiamo impegnandoci sull'evangelizzazione e tutte le nostre strutture devono avere come primo obiettivo questo qui, tanto più quello che sono il pellegrinaggio e il turismo religioso. Tre anni fa abbiamo pensato proprio a questo enorme patrimonio di beni culturali legati soprattutto all'ambito ecclesiale che andavano più attentamente valorizzati e ripensati a partire proprio dal loro valore teologico, simbolico, spirituale.